Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo una divisa, una canotta di allenamento del Paris Saint-Germain in edizione FAN. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info A me piace molto, nella mia classifica questa prende 4 stelle. Secondo me dovrebbe stare benissimo anche con una maglietta bianca portata come sorta di gilet. Il costo lo vedete qui sopra, molto basso per una maglia fatta sicuramente bene, con un'ottima qualità, un'ottima vestibilità e colori stupendi. In descrizione qui sotto vi ricordo che trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare per comprare quello che volete. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però lasciateci un grande like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.